Eccoci, eccoci, eccoci di nuovo insieme qui da Sanremo, ultimo collegamento per questa 73esima edizione del festival che possiamo confermare è veramente un record dal punto di vista degli ascolti, dal punto di vista pubblicitario ma anche dal punto di vista dell'indotto perché la città sanremese ogni anno gode di questa magnifica pubblicità di un indotto diretto da parte del festival ma anche indiretto. Ovviamente i cittadini di Sanremesi dopo 5 giorni iniziano ad essere un po' stanchi anche se il festival ormai è finito capiscono che appunto il festival è sempre una grandissima opportunità e una grandissima anche occasione di poter promuovere le loro belle cose, ad esempio le specialità di questo posto a livello culinario e turistico. Però puntiamo un attimo il focus su quello che è il festival, grande emozione per il vincitore di questa edizione che trionfa, trionfa in tutte le serate. Andiamo però a rivivere insieme passo dopo passo quelli che sono stati un po' i nostri collegamenti, i nostri racconti qui dal festival e andiamo a fare un breve riassunto insieme anche della serata finale così da concludere questa edizione insieme sperando di potervi dare appuntamento al prossimo anno, sempre qui da Sanremo. Sono quindi state 5 serate ricche di emozioni, ricche di ogni tipo di emozioni dalla felicità alle risate ma anche un po' di commozione visti anche i ricordi come quello di Lucio Dalla fatto da Gianni Morandi ma anche quello per le donne in Iran e la privazione dei diritti civili in Iran fatto da Drosilla Foer e anche il minuto di silenzio fatto per le vittime del terremoto in Turchia. Quindi un festival che comprende tutte le sommature della vita, dalle tragedie come la guerra alle invece i momenti più leggeri come la grande musica. In finale ha visto proprio trionfare il brano Due vite di Marco Mengoni una vittoria che era già telefonata se così possiamo dire ma sicuramente una vittoria super meritata visto che anche l'orchestra le ha dedicato un premio a questo brano e ha concesso a Marco Mengoni il premio per il miglior arrangiamento. Sicuramente però questa edizione ha fermato l'Italia davanti alla televisione e questo sicuramente può essere un ottimo spunto per partire a organizzare la nuova edizione che sarà sempre in mano ad Amadeus con la speranza che tutte le problematiche di questo festival vengano risolte.